Un connubio naturale, spontaneo e profondo. Ad Inveruno, da un'idea delle officine creative del Guado e con la collaborazione di Rocantinas, Friends è stata celebrata la ventesima edizione di Inverart, la rassegna che è sintesi tra arte e giovani, cultura, musica e divertimento. Il programma è stato ancora una volta molto ricco e pieno di spunti, anche perché si è aperta l'edizione del Padiglione d'Arte Giovane dopo il festeggiamento che Inverart ha avuto in un convegno a Palazzo Isimbardi, voluto da città metropolitana di Milano. Il ventennale di Inverart è stato molto importante la tappa milanese a Palazzo Isimbardi, certamente riportare il cuore di questa manifestazione Inveruno è per me motivo di grande soddisfazione perché da qui parte tutto e quindi è giusto che sia Inveruno testimone della vera edizione del ventennale. In questa edizione abbiamo suddiviso la mostra in quattro sezioni, una sezione dedicata proprio al ventennale a Palazzo Isimbardi, quindi abbiamo i cubi linei in biblioteca con la mostra in macetti che è una mostra splendida e imperdibile. Qua abbiamo le venti lesene che raccontano dell'avventura di questi vent'anni, poi abbiamo gli artisti selezionati dall'Accademia dell'Arte di Brera, abbiamo i giovani allievi, gli studenti del liceo artistico in Audi di Magenta e naturalmente come sempre abbiamo i battitori liberi, gli autodidatti, coloro che si propongono perché è un padiglione d'arte giovane ma è anche un padiglione d'arte libera come il concetto di libertà per noi è molto importante, il concetto di sperimentazione per noi è molto importante, quindi stimoliamo i ragazzi a essere liberi nelle loro creazioni artistiche e anche quest'anno abbiamo delle cose interessanti. Inverart torna quindi sul territorio con la consueta Formula Vincente, un luogo di sperimentazione libera, senza classifiche e giurie, progettato, organizzato e gestito direttamente dagli artisti e dai professionisti dell'ambito culturale. Quattro le sezioni principali della mostra, da una parte gli allevi selezionati dall'Accademia di Belle Arti di Brera, poi quelli del liceo artistico in Audi di Magenta e infine i nuovi partecipanti e la mostra dedicata al ventennale. Siamo molto orgogliosi di aprire questa ventesima edizione di Inverart, è un punto importante per la crescita di questa manifestazione all'interno della nostra comunità di cui appunto è diventata un appuntamento imperdibile. I festeggiamenti sono iniziati in realtà nel mese di ottobre nella sede prestigiosa di Palazzo Zimbardi, infatti è stato raccontato e condiviso il progetto, la buona riuscita di questi vent'anni di attività artistica, culturale e sociale e oggi siamo qui nella classica sede del padiglione con la mostra collettiva e spazio appunto agli artisti. Doverosi sono i ringraziamenti ai partner storici di questa manifestazione, prima di tutto il Guado, Francesco Opi, direttore artistico, all'associazione Rockantinas Friends che ci garantisce buon cibo e ottima musica per questi tre giorni ed è stata ovviamente un'associazione fondamentale per la buona riuscita del progetto, Accademia di Brera, Società Umanitaria e ovviamente tutti gli artisti che ogni anno rinnovano la loro presenza e ci fanno conoscere la loro passione per tutte le forme dell'arte.